del Bar del Baseball. Buonasera e ben ritrovati alla diciassettesima puntata del Bar del Baseball ex training socio. Questa settimana grandi grandi novità, è terminato il campionato però finalmente proviamo una grande laguna. Diciamo che il nostro studio si è arricchito. Sì, finalmente è arrivata una presenza femminile di tutti quanti, ma manca una presenza femminile, una valletta. Che posso dirlo? Anche è bella. No, no, è carina. No, no, è proprio bella. No, è carina. Come è carina? Eh sì, è carina. Ma come, che dici? No, no, si chiama carina. Si, si, amici del Bar del Baseball, vi presento a voi. Va bene così, eh. Vedi, eh, questa cosa qua, devi essere sport, così eh. Sì, sì. Sì, è lanciatore della Nettuna Elite, cioè il Bar del Baseball. E poi... Diciamolo come l'abbiamo... Sì, dall'altra parte del muro. Sì, dalla nostra vicina di casa. Dal Bar del Bespo siamo passati al Bar del Seno. Sì, collabora, collabora con... Sì, con il staff. E carina, ci dici i risultati dell'ultima giornata? Risultati e classifica. Allora, Padova-Parma in 4 a 6. Parma-Padova 3 a 4. Quindi Nettuna 5 a 9 e 5 a 4. Novara-San Marino 2 a 3, 8 a 1. Colonia-Palule 10 a 1, 11 a 2. Allora, andiamo sulla classifica. Sì. San Marino... Aspetta, 24... 24 partiti vinte e l'altro perse. 8 perse. Bologna 23 vinte, 9 perse. Nettuna 20, 12 perse. Rini 19 vinte, 13 perse. Parma 16 vinte, 16 perse. Novara-19 e 19. Padova 10 e 22 perse. Padua 3 e 29 perse. Grazie a tutti.